Il mio personaggio è un personaggio che si accoppia con donne della terza età. Mi hanno detto che hai studiato all'Actor Studio il metodo americano per fare questo personaggio. Per entrare nel personaggio ho chiesto un favore alla nonna di Pieraccioni, che gentilmente me l'ha donata. Io penso veramente che la donna più anziana è meglio, perché è come la bistecca. Se te prendi una bistecca e la mangi appena tagliata non è buona, se la lasci un po' a putrefare, a frullare è migliore. Io poi di donne me ne intendo, perché io sono metà donna, anzi chiamatemi Rubi di Scandiccio. Andate a vedere questo film, vi auguro che vi piaccia, che facciate due risate. Se poi avete una nonnina da darmi a me, io sono pronto. Ok, grazie. Prego. Grazie.